Buonasera a tutti, giro di boa settimanale con il segno meno per i listini europei. Ovviamente a minare un po' l'umore dei mercati, le parole di ieri del presidente americano Donald Trump che è tornato a puntare il dito contro la Cina e anche contro l'Europa, alimentando i timori di una nuova escalation della guerra commerciale. Molti paesi ci impongono dazi straordinariamente alti e creano barriere commerciali impossibili. Queste sono state le parole di Trump in un discorso tenuto ieri pomeriggio all'Economic Club New York in cui è chiamato in causa anche l'Unione Europea. Nel pomeriggio di oggi invece è arrivato il discorso di Powell, numero uno della Federal Reserve che ha confermato l'intenzione di mantenere i tassi fermi anche se la banca centrale americana rimane pronta ad agire se cambiano le prospettive. Ma andiamo a vedere quali sono stati i commenti, quindi le chiusure dei commenti soprattutto di Powell, Dax che chiude a meno 0,40%, Ibex meno 1,17%, CAC di Parigi meno 0,21%, Fuzzi Londra meno 0,17% e Fuzzi Mib che chiude a meno 0,84%. Bene, per quanto riguarda invece le news di oggi, l'inflazione tedesca nel mese di ottobre si è attestata all'1,1% su base annua. In linea con la lettura preliminare è il consenso di Bloomberg su base mensile e l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un progresso dello 0,1%. Calo maggiore invece del previsto per quanto riguarda l'inflazione della Gran Bretagna, a ottobre il tasso di inflazione si è attestato all'1,5% su base annua contro l'1,7% precedente e l'1,6% atteso dal mercato. Si tratta del livello più basso dal novembre del 2016 su base mensile l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un ribasso dello 0,2% mentre invece per quanto riguarda la produzione industriale nella zona euro è mostrato a settembre un rialzo leggero dello 0,1% rispetto al mese precedente facendo meglio delle attese degli analisti che avevano stimato un ribasso dello 0,3%. Ad agosto la produzione era cresciuta a un ritmo più sostenuto e appare a uno 0,4%. Leggero rialzo invece dell'inflazione degli Stati Uniti a ottobre il tasso di inflazione si è attestato all'1,8% su base annua contro l'1,7% del mese precedente. Gli analisti si aspettavano un dato sostenibile, l'indice di prezzo al consumo ha segnato un aumento dello 0,4% su base mensile. Mentre poi queste abbiamo già visto, riteniamo che l'attuale posizione di politica monetaria resterà appropriata fin tanto che le informazioni di arrivo sull'economia saranno sostanzialmente coerenti con le nostre prospettive di una moderata crescita economica. Un forte mercato del lavoro è un'inflazione vicina al nostro obiettivo. a dirlo è il presidente della Fed, Powell, nella sua audizione al congresso americano naturalmente, se emergessero sviluppi in grado di mutare in maniera sostanziale le nostre prospettive risponderemo di conseguenza. Non siamo su un percorso prestabilito, aggiunto il numero 1 della banca centrale americana che nell'ultimo meeting di ottobre ha tagliato il costo del denaro che è ora compreso nel range fra 1,5 e 1,75%. Domani, giovedì 14 novembre, da mezzanotte e 50 dal Giappone abbiamo il PIL trimestrale, all'1,30 dall'Australia la variazione del livello di occupazione di ottobre, tasso di disoccupazione di ottobre, all'ore 8 il PIL della Germania nel terzo trimestre, poi vendita al dettaglio alle 10.30 della Gran Bretagna, mezz'ora più tardi, esattamente alle ore 11, PIL del terzo trimestre della zona euro, poi alle ore 12 è la volta del rapporto mensile dell'OPEC, attenzione alle ore 12 dagli Stati Uniti, quindi attenzione per quanto riguarda le situazioni inerenti al DAX, scusatemi, all'OIL, alle 14.30 invece abbiamo l'indice dei prezzi alla produzione delle ore 14.30. Bene, questo quindi è il calendario macroeconomico che già abbiamo filtrato, già è stato filtrato per quanto riguarda appunto le notizie più importanti. Passiamo direttamente all'analisi dei scenari, delle nostre operazioni che abbiamo più volte indicati all'interno della chat Telegram, Euro-Dollaro, Euro-Dollaro continua a spostarsi sotto 1.10.20, in questo momento ci troviamo esattamente in area 1.10 ed l'operazione si mantiene in positivo di una quindicina di punti, molto probabilmente potrebbe, questo movimento ribassista potrebbe continuare anche nelle prossime giornate per poter poi chiudere questa movimentazione ciclica giornaliera e poter raggiungere quindi nuovamente il minimo da dove è partito esattamente in area 1.08.70, 1.08.80. Mentre invece per quanto riguarda la situazione legata al dollaro yen, continua la situazione sul dollaro yen, quindi abbiamo un'operazione che in questo momento sta andando bene, quindi siamo un'operazione di mediazione rispetto all'altra operazione che si trova più in basso, quindi trend line rispettata, quindi pullback sul livello a 109.30, quindi rottura del pivot settimanale e un movimento verso il basso, quindi al momento la situazione resta ribassista, quindi abbiamo una movimentazione di medio periodo ribassista. Mentre invece per quanto riguarda il cable, operazione che è prima operazione della giornata, buy limit, buy limit che continua, vedete, buy limit, il movimento, un buy limit centrato 1.28.32, due punti, giusto due pip al di sopra il pivot settimanale dove funge appunto da barriera, vedete quante volte il prezzo più volte è rimbalzato su questa zona però in diverse occasioni però senza mai raggiungere, senza mai spostarsi, chiudere più che altro da di sotto il pivot settimanale. Quindi poi abbiamo una fine di una correzione, abbiamo area 50, quindi anche una zona cluster perché 1.28.327, 1.28.30, quindi praticamente abbiamo il 50% di fibonacci, da qua potrebbe iniziare una movimentazione al rialzo. Mentre invece andiamo a vedere le altre operazioni che stamattina l'operazione su euro yen, sell limit che non è stato triggerato, il sell limit, vedete, peccato, adesso il prezzo si è appoggiato sul pivot, menzite, vediamo se domani c'è la possibilità di un pullback, di un ritorno, di una piccola correzione per poter andare a prendere il sell limit, però l'indicazione ribassista. C'è, poi andiamo a vedere invece anche l'altra operazione, AU2SD, operazione sempre stamattina rispetto a ieri abbiamo più operazioni, AU2SD, quindi rimbalzo su questa zona, quindi da qua potrebbe partire il movimento, vedete, il movimento al rialzo, abbiamo una bullish shark che si è appoggiata su questa trend line, vedete, trend line con una partenza long, quindi abbiamo una doppia con un appoggio anche su un supporto dinamico, un supporto statico, un micro supporto statico, quindi da qua è con la bullish shark, quindi da qua potrebbe partire il movimento al rialzo. Mentre invece per quanto riguarda altre operazioni che abbiamo ancora a mercato, segnalo il New Zealand dollaro, allora per quanto riguarda il New Zealand dollaro, qui la situazione, vedete, continua a movimentarsi long, dopo aver preso il primo target su New Zealand dollaro, esattamente il primo target stamattina a 0,64, adesso si sta movimentando di nuovo su, quindi l'altro target è posizionato a 0,265 punti, ovvero un attimo solo che non lo riesco a trovare, l'operazione, pardon, a 0,65, è 65, mentre invece per quanto riguarda le operazioni con sterline dollaro, australiano, il buy, manteniamo l'operazione buy, anche se stiamo a meno 30 punti di profitto, però la situazione al momento, vedete, sta continuando ad avere un rimbalzo sul pivot giornaliero e da qua è partito il movimento long, mentre invece ottime performance per quanto riguarda le operazioni sia sul DAX, stamattina abbiamo messo due operazioni, prima operazione, quindi chiusa a break even, poi la seconda chiusa praticamente chiusa a 35 punti, abbiamo invece altre due operazioni, sia sul DAX che sul Don Jones, sul DAX siamo rientrati, nuovo dopo la correzione, piccola correzione a 13.206,20, in questo momento stiamo a 41 punti, stessa situazione per il Don Jones a 27.686 e stiamo a 60 punti di profitto. Allora, seguendo le indicazioni, il DAX potrebbe ulteriormente movimentarsi al rialzo, quindi indicazioni di ottica giornaliera, quindi l'area cluster è questa, per me questa potrebbe essere la zona dove raggiunto questa zona potremmo assistere ad esattamente tra 13.500 fino a 13.650, questa è la zona da qui potrebbe quindi ripartire, quindi abbiamo ancora spazio per movimento long, quindi abbiamo davanti a noi abbiamo, il prezzo potrebbe quindi raggiungere questa zona altri 220-290 punti, per poi questa è la zona dove da questa zona potrebbe partire una movimentazione al ribasso, primo target, e poi da qua potrebbe raggiungere quest'altro massimo, dove praticamente è partito in long e poi magari potrebbe andare a prendersi quest'altra zona di vendita, quindi da qua potrebbe partire una correzione molto profonda di ben meno di 7-800 punti fondamentalmente. Mentre invece per quanto riguarda la situazione legata al DAX, beh il DAX al momento ottimo spunto, ottimo movimento anche per il DAX, anche qua abbiamo una situazione, vedete ci stiamo avvicinando piano piano a 27.800 dove ho sistemato i sell limiti, qua abbiamo tra 27.761 e 27.800 potrebbe partire un'operazione sell con un target a 27.400, stop loss 27.800, quindi stop loss di 50 punti, a fronte di un 400 punti di target, quindi un risk reward pari a 1 a 8. In questo momento stiamo a oltre 65 punti, sia per l'operazione sul DAX che per quanto riguarda l'operazione per il Dow Jones, ho spostato già lo stop loss a brecchimani, quindi stiamo a free trade, per il Dow Jones andrò ad inserire, in questo momento vado ad inserire appunto il target proprio a 27.800 dove dovrebbe iniziare il movimento, eccolo molto interessante, mentre invece per quanto riguarda US crude, US crude avevo indicato altre possibili, un altro setup interessante, stavo aspettando, stamattina ne abbiamo parlato sia all'interno della diretta live mattutina che pomeridiana, un ritest su una di queste zone, stavo aspettando una correzione, invece vedete che movimento forte già c'è stato, quindi una spinta di 130 punti, vediamo un po' se a 57.81, quindi se rompe 57.81, entreremo molto probabilmente, non ci sarà una correzione, quindi entreremo direttamente long a mercato. Bene, per stasera è tutto, grazie mille per l'attenzione, ci aggiungiamo quindi domani mattina con altri possibili scenari interessanti, altri scenari interessanti, quindi domani mattina con la quarta diretta live mattutina della settimana alle ore 8.30. Buonasera da tutti.